Ciao a tutti e a tutte, benvenuti in questo nuovo video. Scusate tanto per l'inattività, ma questo mese, visto che è quasi finita la scuola, ho un sacco di verifiche e di interrogazioni che proprio non riesco a registrare. Però questo oggi, visto che avevo anche pochi compiti, però devo studiare la Romania perché domani ho l'esposizione, però ora riesco a registrarvi questo video. E va bene, niente, cominciamo col video. Allora, oggi vi volevo fare le dieci cose che amo. Iniziamo dalla prima cosa che ho sempre avuto da piccola, che in pratica dormivo, dormivo sempre con il mio bel perluccio, questo Snoopy. Cioè io lo adoro ancora perché, tipo, quando dormivo dormivo sempre con lui, quindi è una cosa che adoro, che amo e sì. La prima cosa è questo peluche. Poi la seconda cosa che amo è questo, il mio oroscopo, perché io sono il leone. E tipo, è la seconda cosa che amo perché me l'ha regalata mia zia quando ho fatto il battesimo il mio cugino. Quindi, cioè, tipo, è una cosa che... è il mio portafortuna questo, cioè, sì, è il mio oroscopo, è il mio portafortuna. La terza cosa che adoro sono questi, i miei orecchini, tipo, che metto soprattutto l'estate perché questi l'estate vanno di moda. Quindi, tipo, wow, cioè, li adoro, me li ha regalati mia zia, tipo, aha, sono stra bellissime. Cioè, sembrano il fiocco di neve, però si mettono l'estate, tipo, wow, li adoro. La quarta cosa che amo è questo, che c'è scritto I love you, che me l'ha regalato il mio fidanzato, che io adoro, cioè, è bellissimo. Ecco. La quinta cosa che adoro è questo, che qua ci sono dentro i cosi, il... non sono rossetti, sono luci calabra, ecco. E sono della poppa. E in pratica me le ha regalati una mia amica l'anno scorso, al mio compleanno, e me le ha regalati la mia amica e li adoro. Cioè, li uso quasi sempre quando devo andare da qualche parte. O se no, uso un altro rossetto di una mia amica che mi ha regalato a Natale, sì. Poi, la sesta cosa che amo è questo, questo braccialettino, che me l'ha fatto mia nonna. Da piccola, e tipo... Ce l'ho sempre con me, perché anche questo è tipo come un mio portafortuna, perché ce l'ho sempre da piccola. Da piccola, tipo, mia mamma me lo metteva sempre. E tipo... Lo tengo sempre, quindi lo adoro. Ok. La settima cosa che adoro è questo, aspettate. Che me l'ha fatto sempre il mio fidanzato. Me l'ha dato il compleanno della mia amica, che è Greta. Saluto Greta, ciao. E... ecco. Me l'ha fatto il compleanno della mia amica. Ecco. L'ottava cosa che adoro è questo. Tipo il panda. Tipo, è stra bello. Tipo, lo adoro, eh. E sì. Cioè, mi piace perché me l'ha regalato mia mamma. E... no, aspetta. Sì, mia mamma, quando ero piccola, tipo, avevo 5-6 anni. E me l'ha regalato al... Non mi ricordo quando, però... Tipo... ecco, l'adoro. Poi, la penultima cosa che amo è questo orologio che in pratica non uso mai. Però, tipo, mi piace. Non uso mai perché è davvero piccolo. E sì, so leggere l'orario, però davvero piccolo non riesco molto. E... Comunque, lo adoro perché questo me l'ha regalato la mia amica che ora abita a Londra e, tipo, mi manca tantissimo. Abita a Londra e me l'ha fatto prima di andare a Londra e... ecco. L'ho tenuto. Comunque, sì, lo uso, tipo, quando devo andare alla... non so, o al ristorante o qualcos'altro. E... ecco. L'ultima cosa che adoro è il mio diario che l'avevo portato a scuola per fare 4 pagine di diario. Infatti, l'ho fatta. Però, visto che non lo usiamo più, ho scritto degli altri segreti e quindi... Qua, tipo, è il diario dove riporto tutti i miei segreti. Quindi, lo adoro. Lo adoro per questo. E niente. Il video è finito così. Le cose che avete visto sono tutte le cose che amo. Nel prossimo video ho deciso di fare le 10 cose che odio. In pratica non sono ancora le 10 cose che odio, però, vabbè, ci penserò. Poi, non so quando farò questo video perché, non so, se riuscirò a fare un video o questa settimana o la prossima settimana. Non lo so. Penso che questa settimana non riuscirò proprio. Però, forse, però, forse, sì. Non lo so. Spero di portarvi un altro video questa settimana. Così sono più attiva. Scusatemi ancora. E niente. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!